Numero 92, Mattia, Cervellone, tirata fuori, tutta la botta in camere, come avete fatto in precedenza, sta per entrare, dietro il cancello, con la onda numero 19, Garimogli, Rescita, D'Avita, per la parcia! Quintici, secondi, al via! Quintici, secondi, secondi, Garimogli, Rescita, D'Avita, 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 E' lui! E' lui! E' lui! E' c'è lui! E' c'è lui, te! E' lui! E' un'attività, mamma! E' un'attività, mamma! E' un'attività, c'è lui! E' un'attività! E' un'attività!